C'è stata una marcata polemica in aula dove parte dell'opposizione riteneva che la surroga non era possibile. Abbiamo spiegato che l'articolo 12 prevede il ricepimento della legge nazionale e prevede la surroga in via temporanea nell'emore di un successivo provvedimento sulla questione di Salamone nel caso in cui Salamone rientra un'altra volta in Consiglio Comunale. Per questa ragione sono amareggiato e dispiaciuto. È chiaro che nel momento in cui non c'è l'interesse del plenum viene falsato l'orientamento del Consiglio Comunale. Del resto la volontà del Presidente del Consiglio di fare giurare preventivamente la salvo e poi conseguentemente votare la surroga credo che era un modo per uscire da questo confronto molto animato. Per quanto riguarda il piano di riequilibrio invece lei ha paventato in aula problemi anche per il pagamento degli stipendi? Certo, io ho parlato con senso di responsabilità e dicendo che anche questo punto era concordato con la Prefettura. La Prefettura mi ha raccomandato di mettere in sicurezza lente. Il piano di riequilibrio non è altro che ci sono dei debiti fuori bilancio e questi debiti possono essere pagati elaborando un piano. Oggi è soltanto un atto di indirizzo. Il Consiglio indirizza la Giunta a preparare il piano. Dopodiché il piano una volta preparato va alla Corte dei Conti, se riceve il visto favorevole viene riportato in aula per il voto. Quindi non c'è nessuna responsabilità, è soltanto la responsabilità di quella parte dell'intero Consiglio Comunale per fare in modo di quella fine che lente possa essere sicuro di poter continuare ad andare avanti con estrema serenità. Grazie. Grazie. Grazie.